Viaggio in Cina, a che punto siamo? Oramai mi pare che l'organizzazione sia in via di completamento. I rapporti con le autorità cinesi sono già stati completamente stabiliti e quindi il percorso dovrebbe essere ormai definito. Già che ci siamo, tengo a precisare come Presidente Anci che tutti coloro che partecipano al viaggio in Cina, compreso il Presidente, i Vicepresidenti ed eventualmente i familiari di tutti quanti i sindaci avranno la quota spese completamente al loro carico. Qualche polemica mi pare che sia apparsa su qualche giornale, qualche sindaco ha fatto qualche insinuazione, Anci è di sopra di ogni sospetto e tutte quante le spese di competenza saranno sempre stabilite che coprima oggi e anche domani a carico direttamente di chi ha la responsabilità di guidare Anci. Grazie.